Alcuni brandelli di pergamena erano scoloriti, altri lasciavano intravedere l'ombra di un'immagine, a tratti il fantasma di una o più parole. Talora trovai fogli su cui erano leggibili intere frasi, più facilmente rilegature ancora intatte, difese da quelle che erano state borche di metallo. Larve di libri, apparentemente ancora sane di fuori, ma divorate all'interno. Eppure qualche volta si era salvato un mezzo foglio, traspariva un incipit, un titolo. Raccolsi ogni reliquia che potei trovare e ne impì due sacche da viaggio, abbandonando cose che mi erano utili pur di salvare quel misero tesoro. Alla fine della mia paziente ricomposizione mi si disegnò come una biblioteca minore, segno di quella maggiore, scomparsa. Una biblioteca fatta di brani, citazioni, periodi incompiuti, moncherini di libri.